Siamo tutti nel circuito, prima del richiamo all'ordine del giorno, è doveroso, prima di iniziare i nostri lavori, esprimere a nome della Commissione e io anche a nome della Presidente Ruocco che non è qui presente e di tutta la Commissione, la più sentita partecipazione per l'improvvisa e dolorosa scomparsa del collega Guglielmo Epifani, deputato e membro della nostra Commissione, rivolgendo ai familiari i nostri commossi sentimenti di vicinanza. Sul piano personale mi permetto anche di ricordare che io appena arrivato in Parlamento una delle persone con cui ho avuto un maggiore confronto e relazione è stata proprio con l'onorevole Epifani, la cui sobrietà, lucidità, capacità e soprattutto il modo di approcciarsi e di discutere tutti i temi era assolutamente diverso da ogni altro collega deputato, nessuno me ne voglia, ma lunghe discussioni, lunghi confronti e riflessioni che resteranno nel mio ricordo e credo nel ricordo di tutti i parlamentari che lo hanno conosciuto per questa sua vivissima umanità e capacità anche di rappresentarsi come una persona di grande spessore politico. Consentitemi questo perché il mio rapporto con lui si è creato in questi anni e lo volevo ricordare. Apriamo quindi l'ordine del giorno che rega il seguito della audizione di Maria Antonietta Scopelliti, segretaria generale della Consob, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal trading online sui mercati finanziari e sul risparmio. La Commissione ha ravvisato, come ricordate, l'opportunità di svolgere un approfondimento in merito e più in generale sull'impatto prodotto dal trading online sui mercati finanziari e sul risparmio. I temi sono assettamente connessi ed entrambi di grande interesse. I fenomeni di cui parlavo traggono origine da varie elementi e questioni e è importante puntare riflettori soprattutto sul trading online, con particolare riferimento a tutti quegli aspetti anche di tipo normativo che poi interessano fortemente alla Commissione e che richiedono urgentemente di essere approfonditi anche in funzione delle proposte che la Commissione può poi formulare. La Commissione è particolarmente interessata ad approfondire gli aspetti patologici del trading online, sia in termini di abusivismo sia in termini di operazioni posti in essere da alcune imprese di investimento nell'Unione Europea, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, che sembrano tuttavia violare in tutto o in parte le misure di vieto e restrizioni adottate dalla Consul in materia di opzioni bancarie e contratti di differenza, offrendo leve oltre il 400% e non prevedendo meccanismi di stop loss, ma in realtà non prevedendo alcun meccanismo di tutela più ampia anche con riguardo al profilo dell'adeguatezza di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. E oggi nuovamente presente la dottoressa Maria Antonietta Scopelliti, segretaria generale della Consop per il seguito dell'audizione, svoltasi il 25 maggio scorso, che ringrazio per essere qui tornata e per l'attenzione che sta dando alla nostra attività. Nella presente seduta la dottoressa Scopelliti ha illustrato un'ampia articolata relazione sui temi oggetto di audizione e ha già ricevuto una serie di domande a cui ha dato risposta. Oggi invece si concentrerà sulle risposte a specifici quesiti che sono stati comunque formulati anche per iscritto e che i commissari potranno quindi formulare a loro volto ulteriori quesiti e osservazioni a quelli già depositati. In tal senso io do subito la parola al senatore Lannutti che aveva chiesto già nella precedente seduta di poter approfondire la sua domanda e tenendo conto anche di quelle che ci sono state già depositate per iscritto. La ringrazio dottoressa di nuovo per la sua presenza e do la parola al senatore Lannutti. Grazie Presidente, ringrazio la dottoressa Scopelliti per la relazione che ha messo in luce un collaudato sistema di speculazione sui mercati, non soltanto sulla vicenda GameStop con l'app offerta da Robinhood, ma soprattutto per aver chiarito la strategia di trading tipica degli HFT, questi operatori ad alta frequenza che consente di conseguire profitti enormi grazie all'ampiezza dei volumi gestiti, alla velocità di esecuzione, alla revoca degli ordini. Ora noi spesso parliamo di paradisi fiscali e legali la cui tassazione privilegiata sottrae all'Italia, quindi alla fiscalità generale, qualcosa come 30-40 miliardi di euro l'anno. Ma non parliamo di paradisi fiscali nel sud Europa, per esempio Cipro e Malta. Ora Malta è un paradiso fiscale che attrae tantissime società che magari non sono neanche soggette ai regolatori e che tramite meccanismi fraudolenti gestiscono molti ordini, molti trading online. Proprio qualche giorno fa, io ho presentato qualche interrogazione parlamentare in merito, un conoscente che è andato per tutt'altra ragione, è un operatore della comunicazione, è andato a Malta, è andato a visitare una di queste sedi di un operatore della comunicazione e in questo palazzo mi ha detto che una stanzetta di 20 metri su 4-500 metri è adibita alle TLC, tutto il resto è adibita al trading online. Ora c'è stata un'inchiesta di Luca Gabballo, eccetera, eccetera. Quindi voi come Consob so che avete, diciamo, monitorato un po' di comportamenti. Ecco, io le ho fatto anche delle domande scritte. Mi auguro che si possa anche con gli altri regolatori, con la Banca d'Italia, mettere ordine diciamo a questo sistema veramente fraudolento, dove alla fine sono i consumatori finali, i risparmiatori che vengono tesi nelle trappole. Quindi la ringrazio molto e le domande lei già ce l'ha, che gliel'avevo già comunicate. Grazie mille, dottoressa. Grazie al senatore Lannutti. Dottoressa, do la parola per tutte le risposte in prosecuzione della precedente saluta. Allora, grazie di questa prosecuzione che mi dà la possibilità, in qualche modo, di intervenire su questo tema che preoccupa moltissimo la Consob, di risparmiatori. Come dicevo la scorsa volta nella relazione, possiamo distinguere le piattaforme di trading online tra quelle innovative che si rivolgono ai maggiormente inesperti, molto aggressive, che molto spesso hanno anche sede in paesi della comunità europea e che quindi godono del passaporto comunitario per operare e offrono in maniera rendimenti stratosferici, quindi con una pubblicità anche particolarmente ingannevole, prodotti complessi e rischiosi che naturalmente portano anche in molti casi alla perdita totale del capitale. Poi abbiamo invece le piattaforme più tradizionali dove ci sono i trader online che operano nei mercati regolamentati, che operano su strumenti molto più tradizionali e che hanno un grado di expertise che hanno nel tempo ottenuto anche decisamente più elevato. Cosa la Consob tenta di fare e cosa si può fare rispetto a questo fenomeno che appunto preoccupa molto, tra gli elementi di preoccupazione c'è anche il fatto che adesso si affacciano anche questi strumenti che hanno come sottostante criptovalute, quindi anche qualcosa di ulteriormente complesso e ulteriormente opaco direi, diciamo, oltre ad avere un'enorme volatilità. I divieti, i divieti sono una delle, no la product intervention è stabilita dalla Mifid, sui contratti per differenza che sono diciamo l'inizio di questa storia ma appunto come dicevamo prima siamo andati anche molto avanti, è intervenuta l'ESMA perché esisteva, diciamo il fenomeno era molto esteso in tutta Europa e si avevano anche delle evidenze della presenza massiccia di questa, di questi tipi di prodotto e fino al 2019, fino a luglio 2019 con il divieto poi è intervenuta la CONSOB che da agosto 2019 in modo permanente ha vietato sia nei confronti degli intermediari italiani sia nei confronti degli intermediari europei operativi in Italia la vendita di questi contratti. Naturalmente questo tipo di divieto però poi ha bisogno di un enforcement e questo enforcement viene fatto dal Paese, nel caso di intermediari non italiani, dall'autorità del Paese d'origine. Esiste un meccanismo per questo tipo di vigilanza di enforcement che fa sì che l'autorità dove il fenomeno è evidenziato, noi riceviamo numerosissimi esposti per esempio diciamo di attività di imprese di investimento cipriote su risparmiatori italiani, avvisiamo l'autorità cipriota che dovrebbe intervenire. Solo nel caso di inerzia c'è la possibilità che intervenga l'autorità home. Il processo è un processo abbastanza farraginoso, non certamente rapido e comunque la CONSOB lo ha attivato in un caso, in un altro caso poi l'impresa diciamo si è ritirata e non ha ulteriormente offerto questo tipo di servizi di trading online, però i rischi e le complessità soprattutto perché si viaggia nel web rimangono. Ecco perché la scorsa volta in qualche modo siccome il modo di attrarre i risparmiatori più inesperti che dicevamo prima di queste imprese è quello di promettere rendimenti eccezionali e quindi diciamo così di in qualche modo utilizzare una pubblicità ingannevole, il suggerimento normativo che come CONSOB ci volevamo suggerire è quello di porre dei divieti alle pubblicità di prodotti rischiosi che già in alcuni paesi essendo l'ambito della pubblicità il primo approccio con gli investitori, un approccio che non è coperto dalla normativa comunitaria perché la pubblicità infatti prevede negli altri paesi europei interventi nazionali come è stato in Francia e come è stato in Spagna e anche in altri paesi più simili a noi meno aperti come Cipro rispetto a questo tipo di prodotti è quello appunto di vietare questo tipo di pubblicità il che diciamo così in in qualche modo potrebbe costituire una barriera all'ingresso di questi risparmiatori che non trovando queste pubblicità o comunque non essendo bombardati da questi stimoli diciamo ad investire in questa modalità sicuramente diciamo si autototelerebbero molto di più. La questione appunto è una questione rilevante nello stesso tempo la CONSOB sta lavorando anche in vista della revisione della MIFID per ottenere un po' più di poteri come autorità ospitante rispetto all'autorità home quindi all'autorità del paese d'origine e quindi diciamo queste per il momento sono diciamo a grandi linee gli ambiti di intervento che noi intravediamo. Devo dire che l'ambito dell'abusivismo si è parecchio ampliato prima diciamo noi avevamo la possibilità di intervenire solo sulle offerte e invece adesso possiamo intervenire con le modifiche legislative anche sui servizi di investimento possiamo oscurare i siti sia nel caso di abusivismo i servizi di investimento che nelle offerte abusive e quindi devo dire che insomma nel tempo noi abbiamo anche una grande attività abbiamo chiuso quasi 500 siti abbiamo avuto diciamo istruttori e indagini su oltre 1700 casi quindi sicuramente c'è una grande attenzione a questo fenomeno proprio perché colpisce diciamo così i più fragili e più inesperti abbiamo visto aumentare le nostre competenze e i nostri strumenti forse diciamo così vale la pena di porre delle barriere diciamo più preventive più all'ingresso rispetto a questo tipo di investimenti non so se sì sì grazie dottoressa anche perché era come ha visto la commissione e tutti i membri avevano approfondito proprio questi temi avevano richiesto ulteriori approfondimenti ora io darei la parola a chiunque vuole ancora io avrei pure delle domande ma aspetto se ci sono degli interventi da parte dei membri poi mi passiamo a mettere in coda prego ho letto la sua relazione perché l'altra volta è arrivato in ritardo l'ho letto stamattina in treno mi ha impressionato alcune cose che già sapevo è così di massimo ma nella sua relazione dell'altra volta per nel testo che ci ha lasciato calcolando che nella parola consob c'è la b di banche quindi di borsa e quindi è molto importante che voi sappiate di che e perseguiate e chiediate dei provvedimenti adeguati perché poi probabilmente potrebbe essere tardi noi non abbiamo la tradizione finanziaria degli stati uniti siamo arriviamo dopo qualche anno nel bene nel male purtroppo del bene e nel male certo che il trading innovativo se è questo cioè uso e abuso dei social per attirare la clientela retail cioè le persone normali perché per fare un'operazione tipo quella di game stop bastano anche pochi dollari effettivamente è molto pericoloso lei ha accennato anche nella risposta precedente al problema criptovalute perché per certi versi a fine ed è un altro problema di quelli che si hanno affrontato e secondo me viene affrontato con troppa leggerezza perché le criptovalute sono anche difese dai e usate e reinventate dai grossi gruppi amazon e quant'altro ma siamo nello stesso tipo di come dire di abuso della carta finanziaria così oggi già nella finanza mondiale si dice che i magazzini delle merci in realtà non siano nei magazzini reali dei trasformatori ma siano sulle navi container che girano per gli oceani e quando si blocca su e succede la fine del mondo ma quelle merci che possono valere mille hanno generato delle operazioni finanziarie dico per 10 mila ma ma è di più pare moltiplicatore pazzesco quindi c'è tutto un fermento e collegato a quello pare che ci sia sui derivati soprattutto i debiti delle banche non italiane e questo una volta tanto siamo in vantaggio nel segno positivo nel segno del bene ma tutto questo mi fa dire che credo che sia ora di provvedimenti preventivi molto drastici per evitare che il sistema si accalapi le persone comune che oggi passano le giornate sul computer sul telefonino e distrugga un po' di po' di risparmi e quello che c'è sulle carte di credito che a volte non funzionano ma una volta che sono andato al supermercato con mia moglie e c'era una persona davanti che diceva la carta non funziona a me è scappato in dialetto con un calcio nelle caviglie di mia moglie non è la carta che non funziona sei tu perché aveva già usato e abusato anche del mese successivo io chiedo che veramente la conso faccia delle proposte che si intervenga in maniera drastica perché è meglio prima che dopo grazie c'è per non tanto anche il senatore l'annutti mi ero pronunciato anch'io ma prego 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 non volevo prevaricare prego prego senatore l'annutti grazie semplicemente io ringrazio la dottoressa scopellite per le risposte volevo puntualizzare anche alcuni aspetti perché tutti avranno visto quell'inchiesta di luca gaballo l'isola del tesoro pirati e corsari del trading online quindi questa è una roba molto preoccupante molto preoccupante perché perché anche l'omologa consob di cipro la cisec e a conoscenza di quello che accade di queste condotte illegittime operate da queste società presenti su cipro che offrono questi servizi sono società legali ma il 90 per cento di chi gioca alla fine perde la controparte del cliente è la stessa piattaforma quando il cliente compra le cfd che sono strumenti derivati gliele sta vendendo alla piattaforma quindi se il cliente guadagna la piattaforma perde viceversa per questo motivo il cliente perde sempre centocinquanta piattaforme autorizzate a operare con questi strumenti derivati molte altre non registrate in alcuni casi di proprietà di una delle centocinquanta società autorizzate ieri sera report su un'altra questione che riguarda il calcio mi si consenta tra virgolette marcio ha messo in luce diciamo meccanismi illegali che derivano da queste isole del tesoro allora dottoressa scopelliti le volevo chiedere se fosse possibile di attivarsi anche in accordo con la banca d'italia magari anche con l'esma perché l'esma allora quando c'è l'inerzia delle delle autorità vigilanti interviene quindi se non fosse possibile per un monitoraggio perché insomma qui bisogna capire quanti sono i soldi che girano nel settore quanta gente è coinvolta quanta siano state le perdite per gli sparmiatori coinvolti quante sono diffuse le pratiche vietate e se non si ritenga necessario promuovere iniziative per vietare la vendita di questi strumenti pericolosi al pubblico così come già accaduto nella patria del liberalismo ossia gli Stati Uniti d'America la ringrazio ancora molto dottoressa scopelliti grazie a lei senatore grazie a lei una domanda che mi permetto dottoressa che in linea con quanto l'avevo già espresso nella precedente seduta ma che parla di una questione particolare che è già stata attenzionata dalla Consob lei sa che ci sono queste società per esempio una in particolare che offre corsi di formazione per trader Samas e lo fa promettendo risultati dire inferosimili è una come dire è un modo per non solo un eufobismo è un modo gentile per non usare parole non ammesse in una commissione bicamerale da 600 a 20 mila euro in tre giorni io so bene che voi avete fatto un approfondimento ed è in corso una una ulteriore valutazione sul piano anche della individuazione dei soggetti che stanno dietro che in qualche modo hanno le facoltà esercitano facoltà gestionali in questo soggetto giuridico che offre questo tipo di attività è evidente che è molto forte l'attenzione della commissione vorremmo capire che strumenti di tutela sono stati pensati in situazioni del genere capisco che il focus e e e l'ordinamento della consob evidentemente possono raggiungere nei limiti della normativa vigente anche a questi approfondimenti perché non è un soggetto esattamente operante nel settore finanziario ma che opera in maniera collaterale ai fini di questa presunta formazione però è molto grave quello che fa perché poi comunque promette questi risultati io ecco sì sì io ce l'ho qui guardi ce l'avevamo presa anche col dottore e questo ad esempio uno pensi sia impossibile moltiplicare per 44 volte il proprio capitale con una sola operazione risultati di questo calibro nel trading sono assolutamente raggiungibili ce li sto prendendo appena prese ringrazio il dottor Cosentino perché gli avevo chiesto di fare questo ulteriore approfondimento l'abbiamo fatto per non parlare dei metodi qui si parla di arrivare guardi le cifre ecco le faccio vedere poi i commissari le farò sicuramente anche inviare in modo che ci sia questo quadro c'è stata forte attenzione da parte della commissione perché se Samas trading io so che Samas però Samas trading poi e questa società ecco questo è uno dei tanti casi io credo che bisogna intervenire in particolare in questo momento e quali strumenti di tutela oltre a Conso Pagicom quello che deve essere in qualche modo probabilmente il vostro come dire profilo istituzionale può giungere fino a un certo punto ma se ci sono questioni vi chiediamo di segnalarcele e se potete voi stessi e anche altre agenzie interessarle innanzitutto intanto capire che tipo di tutela si può in questi casi nell'ambito della materia vigente del vostro profilo istituzionale poter evidentemente svolgere in maniera efficace grazie allora diciamo la prima domanda era sull'uso dei social che mi dà la possibilità di in qualche modo introdurre un altro aspetto molto importante sul quale forse occorre lavorare Conso ben prima fila ma credo tutti che è quello appunto dell'informazione e dell'educazione finanziaria dei risparmiatori retail noi abbiamo sul nostro sito da qualche anno quella sezione occhio alle truffe probabilmente non è sufficiente nella relazione della scorsa volta io evidenziavo che durante il periodo del lockdown moltissimi giovani giovanissimi chiusi diciamo in casa hanno abituati a giocare con la playstation si sono aperti a questa modalità di scommessio insomma la famosa gamification cioè rendere gioco anche l'investimento l'investimento non è gioco e lo dimostravano le cifre che prima ho sentito nella domanda sulle materie prime che vengono duplicate sui valori delle criptovalute che hanno dei fixing molto poco trasparenti e così via quindi anche l'aspetto diciamo così della educazione finanziaria forse sin dalle scuole anche è un aspetto molto rilevante il discorso dei social è in questo momento all'attenzione come dicevo la scorsa volta anche dell'ESMA perché quel tipo di flash mob investiamo tutti in può configurare una raccomandazione di investimento e voi sapete che le raccomandazioni di investimento diciamo sono sia dalla market abuse regulation che dalla MIFID in qualche modo diciamo così presidiate da conflitti di interesse da modalità di fairness opinion che devono essere rispettate e che in questo caso qual è la difficoltà chiaramente nei social la difficoltà è capire a chi ti devi rivolgere e qui siamo nel piano dell'enforcement , riprendendo invece gli argomenti diciamo relativi a queste isole del tesoro come si diceva prima effettivamente diciamo appartenendo questi soggetti all'Unione Europea ci sono delle difficoltà però come accennavo prima in sede ESMA in questo momento si sta lavorando per esempio diciamo per modificare il testo della MIFID 2 che dice che le autorità diciamo ospitanti quindi in questo caso l'Italia quelle dei risparmiatori italiani possono intervenire nell'inerzia dell'autorità OMA che come abbiamo visto è perfettamente accorrente quando ci sono motivi chiari e dimostrabili dice in questo momento la direttiva si sta invece lavorando perché invece dei motivi chiari e dimostrabili che sono non facilissimi da ottenere si possa intervenire già quando ci sono motivi ragionevoli sembra una modifica lessicale molto poco importante invece sicuramente dà la possibilità di intervenire senza avere bisogno di dimostrare diciamo che a volte magari hai soltanto qualche esposto non sempre l'esponente ti presenta la documentazione relativa quindi c'è attenzione anche su questo con la Banca d'Italia e anche con l'UIF diciamo sono loro che ci segnalano è molto interessante il suggerimento di cercare di mettere insieme il più possibile i dati per capire quanto misura quanto misura il fenomeno a proposito diciamo di questo invece modo di inserirsi nelle politiche di investimento nella decisione di investire che è quella della formazione che è molto più subdola e che effettivamente sembra esulare secondo me però con quel tipo di messaggi potrebbe rientrare nella pubblicità certamente diciamo è nelle competenze antitrust per le politiche commerciali scorrette però anche diciamo quando si riferisce a investimenti finanziari particolarmente rischiosi potrebbe effettivamente fare parte di queste iniziative di divieto che già sono state adottate da alcuni paesi che anche in Italia si potrebbero adottare non avendo diciamo vincoli comunitari e avendo invece a casa nostra il fenomeno insomma l'abbiamo dimostrato in diretta oggi pomeriggio la ringrazio dottoressa se non ci sono altre domande io avrei un'ulteriore questione che mi ero riservato aspettando se ci fossero altri colleghi quindi comunque l'avremo poi mandata con un'eventuale anche domanda scritta c'è un tema quello da tutela diretta dei soggetti risparmiatori e del risparmio in generale con riguardo alle decisioni dell'arbitro bancario e finanziario e dell'arbitro delle controversie finanziarie è un tema che riguarda anche l'esecuzione delle decisioni arbitrali e linee d'ampienza di alcuni intermediari alle decisioni favorevoli degli arbitri siccome ce ne hanno segnalate molte ne abbiamo avute molte come commissione lei sa che abbiamo anche istituito questo sistema di segnalazione che quindi ci arrivano sia i singoli membri che alla commissione nel suo complesso e il problema è quello anche della valutare l'opera di modificare in qualche modo il sistema anche con riguardo alle norme processuali ora la giustizia civile è oggetto di una riforma probabilmente la commissione banca potrà con l'accordo su tutti i commissari eventualmente fare delle proposte quale potrebbe essere una proposta nel caso di decisioni favorevoli degli arbitri che non sono poi vengono mai eseguite lei come ben sa esiste un sistema che è quello che il provvedimento arbitrale il lodo per così dire può essere sulla base di quella che è la disciplina del codice di progetti civile essere in qualche modo reso esecutivo attraverso un procedimento di fronte al tribunale che accoglie l'istanza che viene fatta per appunto l'esecutività della decisione arbitrale un sistema che non è complesso attraverso il deposto dell'odo in originale o nella copia conforme insieme alla convenzione di arbitrato che fa comprendere qual è la origine del provvedimento in questo modo poi i tribunali possono intervenire per dare esecutività all'odo il procedimento arbitrale previsto nella giustizia civile per il codice di progetti civile io credo che questa norma però non è stesa alle ipotesi degli arbitri che noi stiamo trattando purtroppo cioè non c'è questa possibilità perché non rientrano attraverso i meccanismi istitutivi del collegio arbitrale così come è previsto nell'ambito della giustizia civile e si potrebbe pensare a una norma che in qualche modo consente di adottare analogamente lo stesso procedimento se poi c'è la norma in via diretta in modo tale di avere un meccanismo tecnico giuridico che sul piano processuale consenta poi l'esecuzione immediata e diretta perché siccome siamo in un periodo nel quale tanti parlano qualcuno abbaia e qualcun altro dice scemenze lo dice un presidente di una commissione è il momento di fare qualcosa di un po' più chiaro cioè di arrivare e questa commissione è molto propensa alla parte diciamo costruttiva anche a trovare elementi che possano trovare applicazione perché la tutela diretta degli sparmatori non c'è nessuna tutela allora non so se è la Consum anche qui siamo sempre ai limiti delle sue però certo una valutazione che viene dalla Consum in ordine a un meccanismo processuale e so che lei comprende bene questo meccanismo che possa analogamente a quello già previsto in via generale per le decisioni arbitrali ottenere esecutività immediata tale per cui uno non può dire non adempio questa è una mancanza di un elemento che è tipico di una decisione arbitrale cioè la esecutività attraverso appunto il processo di evoluzione forzata è quello che si è garantito dalla disciplina normativa perché è inutile tutte le pensate su sta roba se poi non c'è la possibilità di ottenere un adempimento coattivo allora se lei ritiene che una norma di questo tipo che secondo me è una norma possa essere in qualche modo apprezzata e consenta quella tutela del risparmio che poi anche nella stessa valutazione della Consum è comunque un elemento fondamentale di stabilità del sistema grazie questo certamente probabilmente vi farò avere perché dovrò parlare con i colleghi appunto dell'arbitro che come voi appunto ricordate in varie occasioni hanno diciamo così in qualche modo dato ragione ai risparmiatori e non hanno visto poi diciamo eseguire in qualche modo quanto quanto stabilito esatto quindi su questo sicuramente parlando anche con i colleghi dell'arbitro mi riservo di farvi avere del materiale della documentazione sarebbe molto gradita dottoressa dalla Consul perché una valutazione da parte della Consul per noi sarebbe confortante per le decisioni che dobbiamo prendere sì 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 allora il documento che lei già aveva aveva appunto consegnato se è doveroso da parte della Presidenza chiedegli se ha ulteriori elementi da voler fornire rispetto alle risposte della Consul perché questi sono altri posti della Commissione se non ce ne sono altri possiamo chiudere la a parte a parte questo di cui mi sono riservata mi sembra che in fondo anche molte delle domande alle quali ho risposto oggi ritrovano diciamo spunti nelle risposte scritte se poi ci fosse qualcosa insomma siamo sempre a disposizione e mi sembra che si è messo in piedi un flusso di informazioni molto utili per entrambi dottoressa anche perché questo era lo scopo della Commissione creare questo flusso di informazioni la sua presenza è stata preziosa non solo nelle risposte ma anche nel quadro che ci ha fornito nelle due sedute quindi aspettiamo anche queste ulteriori risposte rispetto alle sollecitazioni avute dalla Commissione la ringraziamo davvero a nome di tutti i membri della Commissione perché è stata proficua ed è il lavoro che noi vogliamo fare in questa collaborazione istituzionale continua anche con la Consumo e tutti gli enti che si occupano del sistema bancario e finanziario grazie grazie